Attivare Wi-Fi Direct dal pannello di controllo della stampante, quindi stampare da un dispositivo iPhone o iPad direttamente sulla stampante HP LaserJet Pro. Sul pannello di controllo, andare su e aprire Impostazioni di stato di Wi-Fi Direct, e poi attivarlo. Sul dispositivo iPhone o iPad in uso, aprire Impostazioni, quindi toccare Wi-Fi. Dall'elenco delle reti disponibili, selezionare la stampante in uso con Direct nel nome. Se viene richiesto, inserire una password, scorrere verso il basso sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare l'icona Wi-Fi Direct. Sull'iPhone o iPad in uso, inserire la password Wi-Fi Direct, quindi toccare Collega. Ritornare sulla schermata principale, quindi aprire il documento da stampare. Toccare l'icona Condividi, quindi toccare Stampa. Toccare Stampante. Selezionare la stampante in uso, quindi toccare Stampa. Al termine della stampa, ricollegare l'iPhone o l'iPad alla rete wireless. Ritornare la stampante. Toccare Mont surrender. Adzi. Miroma.